Ciao ragazzi, è il nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo d'Ammo. In nome del Padre e del Figlio e del Spirito Santo, eterno riposo per la loro Signora, splendatessi, che sia perfetto, che sia così baci, ma che sia il Padre nostro che se ne c'è, sia santo legato al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e cosi in terra, perciò oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri servitori, non ci indurre tentazioni, ma ci dà il male a. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, se ne metto qua le donne, metto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, adesso la tua nostra morte, ah, sono le 14.22 ragazzi, andiamo a casa nel nome del Signore, il nostro Gesù Cristo. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Non vedete il Padre, il Figlio, il Spirito Santo. Grazie a tutti. 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 Figlio, Spirito Santo, amico, eterno riposo dalla nuova Signore, spenda ad essi la luce perfetta e il Consiglio del Signore. Il Consiglio del Signore Il Consiglio del Signore Nel nome del Padre, del Figlio e lo Spirito Santo, amico, eterno riposo. O loro Signore, spenda ad essi la luce perfetta e il Consiglio del Signore. Il Consiglio del Signore 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 Il Consiglio del Signore